Continua la preparazione in quel di Temù, tanta fatica, tanto sudore e oggi ai nostri microfoni due delle più esperte del gruppo, Viviana Schiavi e Roberta Dadda. Viviana comincia la tua terza stagione qui al Brescia dopo una vittoria in Coppa Italia grandissima, adesso inizia una stagione forse ancora più avvincente. Sicuramente la vittoria della Coppa Italia ma dobbiamo azzerare tutto e ripartire, abbiamo subito un appuntamento importante l'8 di settembre con la Supercoppa Italiana e stiamo lavorando bene in funzione di quella. Un lavoro che vediamo tutti i giorni molto molto duro, ma vediamo comunque sorrisi e vediamo che già c'è feeling con tutto lo staff tecnico appena arrivato. Sì sì, questo feeling penso che si veda sul campo, sono comunque delle persone molto brave, con esperienza, sicuramente cambiare il metodo di lavoro non è mai semplice ma questo nuovo staff si è messo comunque subito a disposizione e stiamo ottenendo da subito dei risultati comunque importanti. Igana, si sa che la domanda sugli obiettivi è sempre una domanda difficile da fare ma sicuramente rispetto allo scorso anno bisogna fare meglio? No, bisogna fare meglio, l'obiettivo di tutti penso sia quello di migliorarsi anno dopo anno, soprattutto tre anni che con la maggior parte del gruppo giochiamo insieme e l'obiettivo di ogni singola giocatrice, di ogni singola squadra deve essere quello di migliorarsi quindi noi lavoriamo in funzione di quello, di toglierci ancora delle soddisfazioni comunque importanti. Poi io sono scaramantica quindi non voglio dire quali sono gli obiettivi eccetera eccetera, però sicuramente noi puntiamo a far bene. Hai vinto due Supercoppe Italiane, due Coppe Italia e due Scudetti, non c'è due senza tre? Esatto, io me lo auguro, ripeto sempre con la scaramanzia che c'è in questi casi, in questi scorsi, siamo pronte, stiamo facendo un buon lavoro, sicuramente la Torre non è un avversario facile però noi ci proviamo e sono sicura che riusciremo a toglierci dalle soddisfazioni. Roberta Dadda, per te inizia il terzo anno qui a Brescia, la tua seconda esperienza più lunga in un club, hai scelto Brescia e dopo questa Coppa Italia si punta ancora più in alto? Sì, adesso inizio il terzo anno, sono contentissima e dopo la Coppa Italia che abbiamo vinto l'anno scorso adesso puntiamo sempre più in alto quindi speriamo di raggiungere quello che stiamo cercando già da due anni. Abbiamo visto che state faticando tanto qui a Temù, lavoro che comunque porterà dei risultati sia a livello fisico che a livello mentale? Sì, questo sicuramente, il far fatica tutti insieme ti dà qualcosa in più che ti fa soffrire in poche parole tutti insieme quindi noi stiamo lavorando, ci stiamo impegnando, lo stiamo facendo tutte bene e sempre con il sorriso. Roberta, quest'anno il campionato di Serie A diventerà 16 squadre dunque molte partite in più, voi con l'impegno della Nazionale, diciamo sarà un anno molto molto duro? Eh sì, quest'anno sì, sarà molto lungo, molto duro poi in vista anche degli europei dell'anno prossimo quindi tutte le partite sono tutte concentrate quindi la fatica sarà triplicata.